il film di questa sera è stato presentato da pomodorissimo santa rosa i pezzettoni con tutto il sapore del pomodoro buono oggi martedì 10 marzo 92 nell'aula dell'appello del martedì si discute si decide su agnelli tacconi prisco divampa la polemica col milan clamorosa voce la marsiglia scambio papen van basten i due rigori alla juve il napoli rincara le accuse e i sospetti foggia caos shalimov furente con zeman sfascia una porta 10 nuove regole sconvolgono il calcio classifica la moviola documenti esclusivi mercato di david messina e ricordatevi sveliamo l'inter 92 93 cecchigori conferma radice vaudo matteus e zenga lolita morena dice tutto arrovigo fra gli amici del giovane tifoso interista suicida san siro la verità sul futuro di bianchi e zoff l'appello del martedì dove elenio dove i falli non sono uguali per tutti gli arbitri bianchi e e e e e e Non c'è tempo da perdere, presentiamo subito la nostra splendida Jessica. Buonasera, è il nostro simpaticissimo Maurizio. Elenio Herrera. Ecco De Cegari, Marino Bartoletti, David Messina, professor Enrico Smeraldi, Giampiero Mudini, Michelangelo Rampulla, Gino Melicucci, Elio Ferrara, aspetta, aspetta, Aldo Fiscardi. Buonasera, buonasera a tutti, grazie, grazie, buonasera. Hai visto che ieri non hai potuto fare la trasmissione, stasera ti abbiamo invitato, dici grazie. Allora, andiamo a Torino, Roberto Bettega, il professor Giorgio Deriento, Bruno Bernardi, a Napoli, a Napoli, con il dirigente del Napoli, Paolo Paoletti, Michele Padovano, re dei gol. È una grande sorpresa a Napoli, è una grande sorpresa nel nostro studio di Roma. Franco Zessirelli. Ciao Franco. Ciao, grazie. Grazie di essere intervenuto e complimenti per tutti i tuoi lavori in Italia e nel mondo. E adesso chi abbiamo ancora? Gaffari? Vediamo. Allora, Carmen Russo, Giannino Paco, i tre tre, grandi tifosi napoletani, bravi, e la regina di interpegno di Zuleyka. Dov'è Zuleyka? Giulia è dietro, è dietro, sono già inquadrata. Ah, già inquadrata Zuleyka, già lì con il serpente, benissimo. Allora. Allora, grazie e vi ricordo i nostri due sponsor, Pectol, leader delle caramelle balsamiche, Pony e Edile Espresso, leader nella manutenzione degli stabili. Vi ricordo, sapete perfettamente la polemica che aveva aizzato Trapattoni nella settimana precedente Inter-Juventus-Napoli, le polemiche col Milan, cosa aveva detto Trapattoni, i sospetti, gli scudetti si vincono in tv. Agnelli, vediamo cosa aveva detto dopo Juventus-Napoli. Vediamo. Cosa c'è? Cosa c'è? Sì, anche lei è d'accordo con Trapattoni che le reti Fininvest tirano la volata al Milan? No, i rigori, dice lui. Sì, va bene. No, io l'impressione, guardi, sappiamo tutti che chi più sta in area di rigori, più rigori prende. Credo anche che il Milan, non mi ricordo quanti ne ha avuti, 10, mi dice che ne ha avuto i 14. елis Richards. No, domani. No, domani. Grazie a tutti.